La tecnica è sempre la stessa, portiera forzata, allarme disinserito e poi con un altro veicolo di supporto i ladri spingono via l'auto da rubare per poi metterla in moto e sparire nel nulla. Tutto in pochi secondi, in pieno giorno e in alcuni casi sotto gli occhi di decine di persone. E' accaduto a Terlizzi dove alcuni residenti di largo pappagallo sono stati testimoni del furto di un SUV parcheggiato in strada, riprendendo tutto con un telefonino. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri con i ladri che sono riusciti a portare via, a tempo di record, un Audi Q8 spingendola con la loro Fiat Tipo. Spettatrici involontarie della scena, una madre e una figlia affacciate alla finestra che con uno smartphone hanno realizzato un video che adesso sta circolando sui social e sulle chat di Whatsapp. E non è neanche la prima volta. Qualcosa del genere era accaduto anche pochi mesi fa, ad ottobre, sempre a Terlizzi, in un altro posto, Viale dei Giardini, ma con un modus operandi praticamente identico. Anche in quel caso, a riprendere i ladri in azione, erano stati alcuni residenti del quartiere. L'auto, rubata in un parcheggio condominiale, venne poi fortunatamente ritrovata poco dopo in una zona di campagna. Un lieto fine che, si spera, possa ripetersi anche questa volta.